Ha una figlia? Scusi, lei sta aspettando qualcuno? Sì, il signor Mainardi. Ma il signor Mainardi non c'è. Il fine settimana normalmente non c'è. Lei sa se è andato da sua figlia. Da sua figlia? Ha una figlia? Ma ne ha due. Una vive qui con lui e l'altra è dai nonni. Signora, mi dispiace, ma qui non abita nessuna ragazzina. Il signor Mainardi vive da solo. Da solo? Ma forse non stiamo parlando della stessa persona. Il signore che abita qui non è mai stato sposato. Non ha figlie e vive da solo. Piace alle donne, questo non si può negare. Ah, ho capito. Grazie, signora. 33A. 3-as feladat. Uno. Che cosa sta facendo, Piero? Sta suonando il pianoforte. Due. Io ho mangiato a pranzo. Tu non hai mangiato oggi a pranzo? Purtroppo no. Senti, dai, almeno aspettiamo mezz'oretta. Va bene. Va bene? Sì, ok. Che cosa stanno facendo il signor e la signora Franceschini? Stanno parlando. Tre. Sei diventata la mia lei Di tutta una vita per me Ci vuole passione con te Non deve mancare mai Che cosa sta facendo il professor Toscani? Sta cantando Quattro Che cosa sta facendo, Gian Piero? Si sta lavando le mani Cinque Che cosa sta facendo, Gian Piero? Che cosa sta facendo la dottoressa Sartori? Sta cucinando Sei Che cosa stanno facendo il signor e la signora Locatelli? Stanno mangiando Sette Che cosa stanno facendo il signor e la signora Locatelli? Che cosa sta facendo il parrucchiere? Sta tagliando i capelli Otto Io sono qui da un'ora che ti aspetto, ma insomma, ci hanno invitato a cena Sì, sì, ho capito che ci hanno invitato a cena, anch'io ho fame, ma cosa posso fare? Se la gente non si muove, cosa posso fare io? Eh, ma scusa, potevi dare un colpo di telefono almeno? Non è possibile arrivare a quest'ora Eh, ma che figura ci facciamo? Scusa, eh Ma che pensi che a ogni angolo c'è una cabina telefonica Che cosa stanno facendo Sandro e Tiziana? Stanno litigando Nove Che cosa sta facendo Antonia? Sta suonando la chitarra Dieci Che cosa stanno facendo Tommaso e Giovanni? Stanno giocando a tennis Ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo lì davanti alla finestra? Hai dei problemi? Non so cosa regalare a Vittorio Lunedì è il suo compleanno Regalagli una bottiglia di vino Una buona bottiglia gli farà certamente piacere Non è un buon conoscitore di vini? Sì, un ottimo conoscitore di vini Tra le persone che conosco, lui è il migliore Francesca, hai avuto una buona idea, sai? 33B Egyes feladat Mi mindent lehet kívánni? Jó utat, boldog születésnapot, jó szórakozást, és így tovább. Illeszte a hallott alapszavak elé a buono mellik név megfelelően ragozott alakját, és már is megkapja a jó kívánságokat. 1. Viaggio Buon viaggio 2. Giornata Buona giornata 3. Appetito Buon appetito 4. Vacanze Buone vacanze 5. Anno Buon anno 6. Natale Buon Natale 7. Feste Buone feste 8. Divertimento Buon divertimento 9. Lavoro 10. Buon lavoro 10. Fortuna Buona fortuna 11. Compleanno Buon compleanno 12. Serata Buona serata 33. B 2. Feladat Szeretnénk megtudni, hogy bizonyos emberek mennyire jók a szakmájukban. Válaszoljon a feltett kérdésekre. Válaszát kezdje szível, a mondatban pedig használja a Buono mellik név megfelelő viszonyító felsőfokú alakját. Segítségül hallgasson meg egy példát. Kérdésünk É una buona insegnante la professoressa Mori? Erre a kérdése így válaszolhat. Sì, è la migliore della scuola. Nos, kezdhetjük? 1. É una buona insegnante la professoressa Mori? Sì, è la migliore della scuola. 2. É un buon ortopedico il dottor Grassi? Sì, è il migliore dell'ospedale. 3. É una buona traduttrice, la signora Lanza? Sì, è la migliore della regione. 4. É un buon cuoco, Giancarlo? Sì, è il migliore della città. 5. É un buon macellaio, il signor Castelli? Sì, è il migliore del centro. 6. Lì gira a destra. Scusi, sto cercando un albergo. Lei sa se c'è un albergo qui vicino? Mi dispiace, ma qui vicino non ci sono alberghi. Deve andare in centro, però è lontano. Saranno almeno due chilometri. Non fa niente. Cammino volentieri. Dunque, adesso continui per questa strada fino all'incrocio. Li gira a destra fino al semaforo. Allora, fino all'incrocio e poi a destra fino al semaforo. Sì, dopo il semaforo prende la prima, la seconda strada a sinistra e va sempre dritto. Dopo il semaforo prendo la seconda strada a sinistra e vado sempre dritto. Sì, giusto. Dopo un po' le vedrà un parco. Ecco, lì, in quella zona, sarà facile trovare un albergo. Dunque, io vado sempre dritto fino al parco. 34A Egy A feladot A Scusi, dov'è la standa? La standa... Allora, lei continui per questa strada fino alla piazza e attraversa la piazza. Dopo la piazza va dritto fino al primo incrocio. Lì, gira a destra. Ecco, la standa è subito lì. Grazie. Di niente. B Scusi, dov'è la stazione? Dunque, lei prende la prima strada a sinistra e va dritto fino all'incrocio. Lì, gira a destra. Dopo mezzo chilometro, lei vede la stazione. Grazie. Prego. Grazie. 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 Grazie a tutti.